Una bara bianca, tanti fiori e palloncini bianchi e rossi a forma di cuore, familiari, parenti ma soprattutto tantissimi amici, coetanei e compagni di scuola. E' stata questa la cornice che questa mattina ha accompagnato nella chiesa di San Giuseppe Artigiano ad Alessandria l'ultimo saluto a Denise Maspe. La quindicenne deceduta nel tragico incidente avvenuto all'alba di domenica scorsa a Cantalupo dove hanno perso la vita anche altri due amici. Il quartiere Cristo si è fermato e ha spento le sue luci natalizie per stringersi al dolore della famiglia. Alle 10.30 quando sono iniziati i funerali anche l'intera città ha osservato un minuto di silenzio ricordando il lutto cittadino deciso dall'amministrazione comunale. Denise frequentava l'istituto Santa Chiara di Tortona e aveva il sogno di diventare estetista. Questa mattina molti suoi amici tenevano in mano un fiore attoniti dalla morte di una loro coetanea e sicuramente ignari del vero significato della perdita. Domani intanto la città saluterà anche una seconda vittima dell'incidente, il 21enne Lorenzo Vanchieri, mentre la famiglia di Lorenzo Pantuosco ha chiesto il massimo riservo sull'esequie. Intanto continuano le indagini per fare piena luce su quanto accaduto. Gli inquirenti stanno vagliando il racconto fornito al jeep di Marouane Naimi, il 22enne che si trovava alla guida della Peugeot sfuggita all'alto dei carabinieri e che si è schiantata contro un palo della luce prima di finire la sua folle corsa nel cortile di un'abitazione in prossimità del passaggio a livello. Naimi è agli arresti domiciliari con la pesante accusa di omicidio stradale aggravato, mentre altri due suoi amici stanno ancora lottando tra la vita e la morte all'ospedale di Alessandria. Sta invece un po' meglio l'ultima occupante dell'auto ricoverata a San Giacomo di Novi Ligure.